È partita la campagna per gli abbonamenti gratuiti dal 24 agosto. Mi permetto di sottolineare questa campagna che la regione Campania è l'unica regione d'Italia ad aver deciso di fare. Noi garantiamo l'abbonamento gratuito per gli studenti fino a 26 anni. Non lo fa nessuna regione d'Italia. Ed è un programma che va avanti ormai da sei anni. Perché è importante? È importante perché magari non si vede, ma gli abbonamenti variano dai 400-500 euro a seconda della lunghezza del percorso a 7-800 euro. Se prendiamo una media di 500 euro ad abbonamento, una famiglia con due ragazzi che vanno a scuola risparmia 1.000 euro. È uno stipendio che viene risparmiato dalle famiglie. Non mi pare una cosa banale. Mi permetto di sottolineare l'importanza di questa decisione presa, ripeto, dalla regione Campania, unica regione in Italia.